a tutti i ragazzi buon sabato ragazzuoli ben ritrovati un po di tempo che non ci vediamo dall'ultimo video che ho fatto su sulla disfatta di napoli praticamente facciamoci il cappellino perché c'è un po di sole qui a modena dunque ragazzuoli cosa volevo dirvi niente volevo comunicarvi che stasera sarò ospite nella live di sandro l'interessa per caso lui la live la farà carissimo amico che saluto ciao sandro la live penso che lui la inizierà alle 23 mi si mi pare io però un po più tardi perché un impegno stasera e forse entrerò in hangout adesso mezzanotte adesso vediamo perché non si purtroppo un contrattempo e quindi vero dopo quindi lo dico a tutti voi appunto che mi seguite mi raccomando venite tutti dal dalla mezza scusate dalle 11 e mezza verso mezzanotte collegatevi tutti nel canale di sandro l'interista per caso io verso mezzanotte dovrei essere lì quindi se volete venire mi fa molto piacere chiaramente niente si parlerà la nella live di sandro si parlerà di tante cose di certi personaggi anche che non proprio dimostrando quanto siano due o tre persone che stanno dimostrando proprio di essere proprio tra persone piccole da persone chiamiamole persone tra povere persone tra poveri elementi che sinceramente dimostrano anche con le loro mosse con il loro con i loro gesti di essere proprio le molto limitate come persone sicuramente dimostra di essere molto gente ipocrita e ruffiana quindi poi magari ne parleremo meglio oggi stasera con sandro ecco di queste cose purtroppo youtube è pieno anche di questa gente gente che che fa i sotterfugi fa fa questa che fa queste cose pensando che magari di essere furba gente che pensa di essere furba di essere intelligente a infamare gli altri sputtanare gli altri purtroppo ne pieno youtube di queste di queste di questi personaggi e quindi cosa vogliamo fare o si ignorano come faccio io o altrimenti certo poi si possono ignorare fino a un certo punto poi anche giusto dire dire quello che si pensa e lamentarsi ovviamente uno l'ignora poi fino a un certo punto si vedono comunque che fanno cose che da da infantili atteggiamenti di un certo tipo certo uno può anche fare può anche non cagarla questa gente qui può anche ignorarla non è che anzi l'indifferenza penso che verso certi elementi certe persone sia la migliora la migliora arma in assoluto quindi io la vedo così poi chiaro che se poi viene posta mi viene diciamo sul banco degli imputati vengo vengo messo anch'io nel senso che che vengo tra virgolette interrogato e mi dicono quanto è successo io non ho problemi a dire quello che è successo quindi purtroppo la situazione sta un po precipitando perché ci sono molti atteggiamenti proprio da scusate la parola francese da deficiente dei soliti di quei due o tre che che pensano appunto di essere persone intelligenti ma non lo sono quindi sappiatelo se mi state guardando non siete assolutamente intelligenti siete proprio la gente anche abbastanza inutile perché state dimostrando questa cosa qui giustamente Sandro parlava di guerra questa gente vuole la guerra la guerra con lui vuole la guerra indirettamente anche con me perché noi siamo a detta loro siamo mafiosi quindi non sanno neanche il significato delle parole però ci tacciano di essere mafiosi quindi siamo messi così ragazzi sono parole dare di mafiosa a uno è un'offesa molto grave come diceva giustamente Sandro in un video è una parola che sappiamo i danni e le cose che ha fatto la mafia quindi dare il mafioso a un cioè se tu lo dici in un contesto tipo calcistico allora è un altro discorso ma se lo dici a una persona sono offese molto pesanti ecco però sai poi anche da che bocca provengono certe offese quindi comunque ti rendi anche conto che livello queste persone hanno perché tu puoi dare importanza fino a un certo punto a certe persone se poi ti rendi conto vedi che razza di gente non è neanche secondo me a parlarne troppo o a prendersela gli si dà troppe importanze quindi secondo me la cosa migliore è lasciarla fottere questa gente qui e basta poi è giusto anche parlarne e affrontare anche questa questa cosa perché io personalmente sono uno che di solito cerco di evitare le guerre nella vita cerco di scontrarmi perché magari sono uno che mi piace la pace quindi nella vita di tutti i giorni e anche virtualmente preferisco non scontrarmi con nessuno perché non mi va proprio come indole come carattere poi è chiaro che se ne sono costretto la scatena anch'io la guarda non è che io sono stato a guardare quindi dipende sempre cosa mi viene detto a me io ad esempio Sandro si lamentava appunto di certe situazioni anche io mi lamento di certe situazioni perché sono stato infamato per certe cose quindi voglio dire anch'io sono abbastanza incazzato con certi con certi soggetti però allo stesso tempo mi fanno anche un po' pena perché gente che ha bisogno di avere il consenso su youtube di dire le cose come se appunto come i bambini dell'asilo senza diciamo risolversele perché queste persone non hanno le palle e il coraggio di risolversele loro hanno bisogno di altri hanno bisogno dell'appoggio degli altri della corte hanno bisogno hanno bisogno di altri cretini come loro che gli danno ragione perché hanno chiaramente ci sono persone che non mettono la faccia nelle cose sono dei vigliacchi anche in qualche parola tanto per intenderci quindi siamo capaci tutti di fare così però la cosa importante c'è la cosa diciamo meno male io aggiungo meno male è che non siamo tutti così ci sono i vigliacchetti ci sono i fassi ipocriti ci sono anche le persone serie ci sono anche le persone che mettono la faccia quando dicono qualcosa quindi niente comunque la situazione è precipitata perché comunque cioè non so sinceramente ragazzi non so cosa dire poi c'è la mania di questi fake che io sinceramente gli do poi l'importanza che meritano perché non sinceramente non rispondo neanche a questa gente questi qui che si divertono a offendere sotto falsi nomi sotto falsa divertimento che io francamente personalmente non condivido e mi sembra anche stupido però gente che si diverte in questa maniera qui bravi gli faremo un applauso appunto per quello che fate anche perché è comoda nascondersi dietro dei nick falsi e prendere per il curo gli altri quindi comunque al di là di questa cosa qui la cosa che dà più fastidio sono certi atteggiamenti di certa gente quindi anche perché vabbè anche i fake che lasciano il tempo che trovano perché se tu non gli dai peso non sei indifferente credo che poi prima o poi smetteranno cioè di fare di rompericolone poi tu puoi bannare la facoltà di bannare su youtube e quindi puoi cancellare anche i vari commenti fare anche un repughistico quindi non è quello di discorso della gente che magari come i tre dell'alve maria che diceva di cui si riferiva a sandro che sono dei poveretti perché nascondono le loro live nascondono le loro quello che dicono per infamarti per offenderti poi chiaramente gente che non è in grado di fare un confronto perché non reggono il confronto non reggono anche perché sono dei falsi quindi niente ragazzi io vi saluto l'ho fatto un po lunghina perdonatemi io vi mando un bacione poi ci vediamo allora domani pomeriggio sarò a vedere il mio moden al finale per gli off contro la reggiana domani sera c'è inter in poli quindi la disamina però la farò lunedì disamina più pagiale come ho fatto per la partita con napoli vediamo bene per domani sera incrociamo le dita speriamo che l'inter faccia l'inter ecco che non si faccia diciamo almeno chiuda il discorso c'è più lega e non si crei possiamo dire non si non si mette il bastone fra le ruote da solo perché siamo pazzi e siamo capaci anche di questo quindi purtroppo la paura c'è sempre ecco quando si gioca contro questa squadra e in circostanze di questo tipo quindi niente ragazzi vi do mano un bacione noi ci vediamo stasera da sandro vi auguro a tutti un buon sabato e come dico sempre prima di chiudere amala sempre e comunque mi raccomando seguitemi sempre e iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto un bacione a tutti i ragazzi e buon pomeriggio ciao